musica 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 bravo bravissimo era ora che qualcuno dicesse la verità di come funzionano sti fake sti scherzi 800 milioni di persone che ti riprendono con luci che manca allo stadio avevano la pozione dell'invisibilità perchè negli scherzi non si vedono mai non so che cosa dire dato che il casino che ha fatto con i bicchieri l'ha sentito pure mia mamma a casa sua musica